Approvato in giunta il rendiconto della gestione 2022, il documento che riassume i risultati della gestione economico-finanziaria dell'amministrazione comunale. L'assessore al bilancio Pierpaolo Barretta ha presentato una relazione alla Commissione Consiliare Competente. Innanzitutto un risultato positivo perché abbiamo ridotto il disavanzo, siamo passati da 2 miliardi e 200 milioni a 1 miliardo e 980, quindi un sensibile riduzione, l'abbattimento della soglia di 2 miliardi è comunque un messaggio significativo. Inoltre abbiamo una situazione di aumento di alcune entrate, diciamo anche un po' imprevista ma interessante come l'aumento dell'IRPEF e ovviamente la tassa di soggiorno sta dando i suoi risultati. Quindi il bilancio consuntivo e rendiconto è un bilancio positivo. Ovviamente questo non risolve i problemi della previsione perché essendoci sempre una scarsità di riscossione resta il grande problema dell'evasione e questo significa che la nostra capacità di spesa continua ad essere molto limitata. L'analisi delle criticità del rendiconto consente di valutare interventi correttivi per risanare ulteriormente i conti del Comune. Interventi di organizzazione del bilancio stesso, essere più precisi nel rapporto tra previsioni e accertamento e interventi strutturali di riorganizzazione, penso ad esempio alla Tari, al fatto che i cambi di residenza non si traducono immediatamente in una registrazione Tari, quindi anche interventi di carattere organizzativo e normativo, ma soprattutto è la capacità di riscossione. È stata costituita la società obiettivo lavoro che nasce dal project financing che abbiamo fatto e dalla gara che è stata vinta da Municipia e lì dovremmo avere i primi risultati di recupero dei residui e continuare a investire sulla parte manutenzione. Certo, quest'anno è un anno il 23 che risente di almeno due elementi problematici che sono l'aumento significativo delle spese energetiche in tutti i sensi, dalla luce al riscaldamento eccetera, pensate alle scuole, si pensi agli uffici pubblici, si pensi alla parte sportiva e anche un aumento sensibile della revisione prezzi di tutti gli interventi che noi dobbiamo fare perché questo elemento dell'aumento della revisione prezzi fa parte non solo dell'inflazione ma anche di un po' di speculazione in generale che c'è stata in questi anni. Fra le iniziative che sono allo studio anche una misura di compensazione per attenuare gli effetti del prossimo adeguamento delle tariffe della Tari. Per quanto riguarda le tariffe Tari il Comune è dal 2019 che non aggiorna la tariffa a questo punto è necessario realizzare l'aumento, l'aggiornamento che consisterà in un aumento ma stiamo ragionando come giunta comunale delle modalità perché almeno alle famiglie questo aumento sia in qualche modo recuperato o compensato con altre forme di intervento. Oggi l'assessore ci ha anche un po' introdotto il nuovo rendiconto del 2022 e grazie al gettito dell'IRPEF di 4 milioni ci auspichiamo il non aumento poi nel 2024 dello 0,1. Abbiamo visto anche la riduzione dei 5 miliardi del debito complessivo a 4,5 quindi ovviamente si spera che nei prossimi anni questo debito sia sempre più esiguo per poi poter avere più gettito nelle casse del Comune. Soddisfazione per il rendiconto degli 8 milioni di euro riservati dal bilancio comunale alle 10 municipalità per i lavori di manutenzione. Il primo anno che non vengono dati 200 mila euro ma 800 mila euro a municipalità e tutti questi soldi sono stati spesi e io direi anche ben spesi. Evidentemente c'era grande necessità perché ovviamente in mucità ricadono tutta la manutenzione stradale secondaria, le nostre scuole e quindi ci auspichiamo anche di mettere qualcosina in più. Abbiamo anche sottoposto all'assessore che tutte le variazioni prossime possono essere però coadiuvate dai consigli proprio municipali.